Musica Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video Oggi daremo un'occhiata a Jelly Bean, quindi Android 4.1.1 Disponibile su Samsung Galaxy S3 da ieri in versione ufficiosa con la personalizzazione della Samsung La ROM che andremo a scaricare è praticamente una ufficiosa rilasciata da SunFirmware Quindi non quella definitiva, però a come abbiamo potuto testare, perfettamente funzionante Prima di vedere quali sono le novità, vediamo come installarla e poi come fare il root Quindi acquisire i privilegi di amministratore Allora, come al solito ci serve Odin, questo programma che serve per il modding del telefono E per installare la nuova versione, questa nuova versione di Android Dobbiamo solamente scaricare questo archivio Del quale trovate i link in descrizione E dopo aver inserito il telefono in modalità download Quindi mentre è spento, tenendo premuti i pulsanti Volume in basso Il tasto di accensione e il tasto home Praticamente il telefono si avvia in modalità download Poi continuiamo con volume su Ed esce questa schermata Quindi praticamente dopo aver fatto questo Possiamo collegare il telefono al computer Dunque lo colleghiamo Se abbiamo i driver installati e per installare i driver come sempre vi dico Ci basta installare Samsung Kies Ci basta collegare il telefono al computer Ed automaticamente vediamo che qui Praticamente ha riconosciuto il telefono Infatti ce lo indica come portacomo 14 E quindi possiamo operare Vediamo come fare il root Quando praticamente l'unica differenza per installare solamente la ROM È presente come si è aperto questo menu Di selezionare il contenuto dell'archivio che troverete in descrizione Quindi facendo doppio clic sulla voce PDA Lasciando tutto quanto tale e quale E cliccando su start In questo caso la ROM è già stata installata Quindi facciamo solamente il root Allora Quindi troverete anche i link in descrizione ovviamente Del download del root Che è un custom firmo Era alla fine Dopo aver selezionato la voce PDA E il telefono è riconosciuto Ci basta cliccare su start Attendiamo che la fine del processo Che dura pochi secondi E il telefono si riavvia E ci esce la scritta pass In verde Come possiamo vedere Il telefono si riavvia Installa i pacchetti Praticamente che sono stati inseriti E poi si riavvia come se Diciamo normalmente Dopo che il telefono sarà stato riavviato Praticamente avremo la versione ruttata di Android Jelly Bean Ovviamente Perché su questo Galaxy S3 È stata già Prima di fare il video È stata installata la ROM Che troverete in descrizione Quindi Diamo ok Ad esempio Adesso sono arrivati dei messaggi Li apriamo Per vedere quali sono Piccole novità Della nuova versione Di Jelly Bean Con la personalizzazione Della Samsung Vediamo che Abbiamo praticamente Una differente gestione Dei messaggi Perché Anche lo scorrimento Non c'è più l'effetto di entrata Quando si seleziona un messaggio Per eliminare Clicchiamo in alto a destra Sul Secchio Che abbiamo per l'eliminazione E poi Quando si esce da un'applicazione Vediamo che c'è un effetto A svanire verso l'interno Allora Vediamo quali sono le principali novità Rispetto a quello che era Android 4.0.4 Quindi L'ice cream sandwich puro Prima di tutto Nelle applicazioni installate di default Abbiamo anche una guida Dove praticamente Possiamo scegliere Praticamente Chi non conosce Non sa utilizzare per bene il telefono Può scegliere Una voce E prende Vi uscirà Come fare I vari step da seguire Quindi in questo caso Cambia suoneria Ci dà le istruzioni Da eseguire Stessa cosa per il telefono Possiamo scegliere Tra alcune voci in un menu E vedere Vedere Poi praticamente abbiamo Un rinnovato menu Delle impostazioni Abbiamo come prima Voce che salta all'occhio Il cambio di modalità Che è la modalità Dello schermo iniziale Ci sta la modalità di base Che è quella classica Praticamente Che utilizziamo E poi c'è anche Una modalità facile Che ci spiega Che è utilizzata Per avere Un'esperienza Più semplice E prendeci Fa in modo Di farci trovare Tutto quello Di cui c'è bisogno Direttamente Sulla schermata home Quindi non andando a girare Nei vari menu Vabbè Lasciamo La modalità di base Ovviamente Poi abbiamo Differenti voci Per schermata Di blocco E sfondo C'è una nuova voce Nel led Abbiamo il led Pure per la registrazione Vocale Poi ci sono Le opzioni Per S-voice Quindi la ricerca vocale E se abilitarla Alla modalità La guida Poi c'è la modalità Riposo Che praticamente Come ci spiega Quando è attiva Alcune funzionalità Che noi scegliamo Possono essere disattivate Quindi risparmiare batteria Quindi in questo caso Si potrebbero disattivare Le chiamate in arrivo Le notifiche La sveglia O gli indicatori led E possiamo scegliere Anche un orario Costante Nel quale Questa modalità Deve essere attivata Poi abbiamo Le altre voci Sono più o meno Le stesse Poi abbiamo Un interavo Voce di menu Dedicata ai nostri account Quindi anziché Entrare nei servizi Per la localizzazione E gestione della sicurezza Andiamo direttamente Su questa voce Qui abbiamo Account Samsung Il Dropbox Google Account Twitter E volendo possiamo Aggiungerne un altro Abbiamo quello di chat Quello dell'email Firefox Sync Eccetera Anche Skype E Twitter Poi come possiamo Andare a vedere Abbiamo codice modello GT3100 E versione di Android 4.1.1 E la versione Dell Installate Il firmware installato E la XXDLH4 Che è quella lì Della quale trovate Il link In descrizione Quindi principalmente Abbiamo queste Novità Possiamo andare Questa ROM Ovviamente È ancora ufficiosa E presenta Qualche piccola Diciamo Defiance Il pinch to zoom Come vediamo Funziona per bene E anche il crop Per vedere Tutte le voci Che abbiamo Sulla home Abbiamo un cambiamento Nel menu Quindi abbiamo Tutte le applicazioni E poi volendo Possiamo passare A tutti i widget Che ci mette Qualche secondo Per avviarsi Però poi diventa Perfettamente Flutido Come possiamo vedere Poi possiamo dare Un'occhiata A qualche immagine Per vedere Se il pinch to zoom Funziona a dovere Apriamo questa immagine È sempre quella personalizzata Di Samsung Che ci offre Poi naturalmente Le varie Opzioni Che avevamo prima In questo caso Abbiamo cambiato Fotocamera Abbiamo tutte le varie opzioni Che avevamo Prima Compresi Tag GPS Le varie modalità Di scatto Quindi Connessione Di ritratto Panorama Notte Sport Adesso abbiamo Anche interni Spiaggia Neve Questi qua Sono nuovi Tramonto Alba Colleo Autunnali Fuochi D'artificio Testo Luce Di candela Contro luce Questa Seconda Questo secondo step Quindi da interni Fino a Contro luce Prende Sono tutte quante Nuove modalità Inserite adesso In questa nuova Versione Da Samsung Dunque Praticamente Un sistema operativo Completamente fluido Non presenta Particolari problemi Nonostante sia ancora Una ROM ufficiosa Che è stata rilasciata In data 21 agosto Per la versione definitiva Non dovremmo ancora Aspettare moltissimo Però se uno vuole passare A Jelly Bean Ovviamente E rappresenta Una valida alternativa Come ultima cosa Vediamo L'integrazione Con Google Now Quindi l'assistente vocale Di Google E vediamo Che nel menu Praticamente Non è presente La voce Di S-Voice Quindi l'assistente vocale Samsung Quindi dovrebbe essere Una mancanza Di questa ROM Fondamentalmente Possiamo notare La buona riuscita Dell'installazione Del root Della presenza Della clockwork mode Che abbiamo qui Comunque Come dicevo Praticamente Abbiamo la ricerca vocale Che però È gestita Da Google Now Scrivi messaggio Ciao come stai Quindi vediamo che funziona Egregiamente Mi ha scritto Ciao come stai E mi ha creato Un nuovo messaggio Poi ovviamente Non ho indicato Il numero Però volendo Uno può fare Richiedere Direttamente Scrivi a Tizio Il messaggio Ciao come stai E quello ce lo crea In automatico E ce lo invia anche L'assistente vocale Di Google Funziona molto bene Inutile sottolinearlo Possiamo anche utilizzarlo Per aprire pagine web Quindi Apri Gazzetta dello sport Vediamo che ci dà Un'anteprima Praticamente La barra Si riempie Quando la barra Praticamente È completa Si apre ovviamente Il sito In automatico Quindi ce l'ha aperto Con Firefox Che è il browser Predefinito L'ultima cosa Da vedere Riguardo la barra Delle notifiche Che è leggermente Cambiata rispetto Alle versioni precedenti Praticamente Abbiamo sempre Tutte le opzioni Che riguardano Le cose più immediate Quindi Wi-Fi GPS Bluetooth Rotazione schermo Rischofare energia Connessione dati Modalità della guida E sincronizzazione Al di sopra Poi abbiamo La luminosità La gestione Della luminosità Appena sotto Le varie concine Per attivare I vari Wi-Fi Il GPS Eccetera Poi abbiamo L'orario In alto a sinistra La data E poi abbiamo Direttamente Il collegamento Per l'apertura Del menu Delle impostazioni E poi Quando L'apriamo Sotto a tutto Ci esce La voce Iteam Iteam Quindi il nostro gestore E l'ultima cosa Siccome è arrivato Proprio adesso Un messaggio Praticamente Oltre a Se il messaggio Che ci arriva È unico Nella barra Delle notifiche Possiamo osservare Direttamente Il testo Del messaggio Senza doverlo Aprire Nell'applicazione Dedicata Perfetto Questa piccola Analisi Finisce qui Come al solito Se avete delle domande Non avete capito qualcosa Vi serve una mano Per installare Questa rom Sul telefono Non dovete fare Altro che chiedere O lo scrivete Nei commenti O sulla pagina Di facebook O volendo Su twitter Dunque Un saluto a tutti E al prossimo video